L'antico complesso della pieve di Santa Maria Assunta a Chianni alle porte di Gambassi Terme è stato recuperato e riconvertito alla sua primitiva destinazione, l'accoglienza. Se un tempo fra quelle mura veniva ospitata una comunità di clericali, come testimoniato da documenti dell'anno 1061, oggi la missione si rivolge ai pellegrini che ogni giorno percorrono la via Francigena, di cui Gambassi Terme rappresenta una tappa centrale molto frequentata fra San Mignato e San Gimignano. Così l'amministrazione comunale, d'accordo con la diocesi di Volterra, ha pensato bene di utilizzare quegli spazi per offrire riposo e ristoro a chi bussa a quella porta. L'ostello Sigirico, dal nome dell'arcivescovo di Caterpoli, che attraverso le annotazioni sul suo diario tracciò il percorso della via Francigena prima dell'anno 1000, è attivo dal 2014 grazie alla gestione dell'associazione Il Cammino di Sigirico. Oltre a poter godere di ampi spazi aperti con vista sulle colline toscane, troverete qui servizi e camere differenziati a seconda delle esigenze. Gli edifici storici adiacenti alla splendida chiesa di Santa Maria Assunta a Chianni, finemente ristrutturati, hanno camere multiple con 4 o 5 posti letto, con arredi essenziali e una sistemazione più spartana nello spirito del pellegrino, ma tutte con bagno privato. Lenzuola, asciugamani e asciugacapelli sono disponibili su richiesta. Inoltre è possibile pernottare anche in confortevoli camere doppie e addirittura in un mini appartamento a uso familiare. È possibile attivare anche il servizio di ristorazione con colazione e o cena semplice e frugale, ma molto affascinante da consumarsi in compagnia degli altri avventori in un refettorio affrescato da Carlo Romiti, artista locale. L'ostello è pet-friendly, accetta cioè animali domestici e offre spazi a comune con connessione wifi gratuita. La struttura è aperta tutto l'anno, ma è sempre meglio telefonare e prenotare per tempo attraverso il sito ufficiale e la pagina Facebook.